Un bicchiere vuoto, qualcuno deve aver bevuto, a parte io, questo no, questo no, questa è come una spugna, ehi hai bevuto troppo, adesso io li mischio, li mischio e dobbiamo trovare, qual'è la spugna? Questa, no, non è questa, non è neanche questa, è questa, che ha bevuto, adesso mi mischio ancora, mi mischio ancora, mi mischio ancora, qual'è quella che ha bevuto, questa, non è questa, non è neanche questa, è questa, un attimo, no, non, la proposa, questa, non è questa, non è questa, non è quella che ha bevuto, Ciao! No, non è fuori da! Si fuori da? Non è né fuori da? Che? Che?